Allora, buonasera a tutti e a tutte. Io ho preso degli appunti, però Giuseppe mi ha detto che devo tagliare, quindi non so fino a che mi servirà. Ho preso degli appunti non perché mi debba ricordare le cose che devo dire, ma perché sono talmente tante e ho paura di perdermi poi. Allora, innanzitutto sposo completamente quello che ha detto Giuseppe prima. Io, come ha annunciato prima, sono un agronoma, lavoro già dal 2005-2006 in tutto il territorio della zona. Mi occupo soprattutto di consulenza e di progettazione in campo agricolo e agrozotecnico soprattutto, visto che è il comparto prevalente. La progettazione è legata quasi esclusivamente ai bandi PSR, perché oggi è impensabile che un'azienda agricola riesca a fare degli interventi con fondi propri. In genere si deve sempre aspettare che ci sia una sorta di finanziamento pubblico che gli permette, almeno per una parte, di poter colmare quelle che sono le spese dei miglioramenti fondiari. Però prima di entrare nel ragionamento di PSR, permettetemi di fare due premesse che cercherò di essere veloce. Allora, la prima premessa è che per me e per chi come me sta in campagna quasi tutti i giorni, parlando con gli allevatori, vedendo la situazione, parlando anche con le famiglie degli allevatori, possiamo affermare che il comparto agricolo è un comparto completamente in stato di abbandono. La politica si occupa del comparto agricolo solo quando ci sono delle crisi forti e abbastanza durature che possono sfoggiare in un problema proprio di ordine pubblico, diciamo. E questo ovviamente è un danno per tutto il comparto, perché sì, gli allevatori e gli agricoltori si sentono sempre e comunque completamente abbandonati dalla politica, dalle associazioni di categoria e anche da tutto quello che gira intorno. La seconda premessa che voglio fare è che il comparto agricolo è un sistema molto complesso. In genere quando si parla di comparto agricolo ci si focalizza solo sugli agricoltori e sugli allevatori. Invece nel comparto agricolo ci sono tutta una serie di lavoratori e di figure professionali che lavorano, quindi che ne so, gli operatori dell'industria di trasformazione, i trasportatori, eccetera. E ci sono anche delle figure che non vengono mai considerate. Qua porto un po' l'acqua al mio mulino, permettetemelo, perché anche noi in questo momento siamo un po' in sofferenza. Quelle figure sono gli agronomi, i veterinari, i periti agrali, gli alimentaristi, eccetera. Che oggi trovare un veterinario che va in campagna a prestare consulenza ad un'impresa agricola è merce rara. Gli alimentaristi in Sardegna probabilmente si contano sulle dita di una mano e quasi tutto sono a servizio dipendenti delle imprese di mangimi e quindi praticamente hanno questo ruolo imbarazzante di essere consulenti però anche venditori di determinati prodotti. Quindi non ce ne sono. Gli agronomi stanno iniziando a scherseggiare a fronte di 12.000 aziende circa che ci sono in Sardegna, gli agronomi che fanno l'attività libero professionale sono circa 1.000, quindi molto pochi. In provincia di Sassari siamo 296 iscritti all'albo. Di questi 296 però non tutti fanno attività professionale perché per esempio sono iscritti all'albo anche molti agronomi che prestano servizi presso le aziende private, quindi per esempio verso gli oleifici, appunto i mangimifici, eccetera. Quindi siamo veramente molto pochi. Cos'è successo in questi anni? E poi chiudo con questa premessa che molti dei lavoratori agronomi e anche veterinari sono stati attirati da una situazione più stabile, quindi sono andati, sono entrati nelle asle, sono entrati, si sono dati all'insegnamento, molti agronomi. Alcuni sono entrati appunto a Laore e ad Argea colmando comunque un problema di personale lì e quindi colmando un problema che c'era negli enti però creandone uno anche nelle campagne. Se un domani il sistema agricolo così come speriamo tutti possa ripartire, riparta, ovviamente mancheranno a noi quelle persone che sono altamente professionalizzate e specializzate in agricoltura. Quindi questo è un problema e io mi auguro che il prossimo presidente della giunta regionale, che io mi auguro sia appunto Renato Soru e la prossima amministrazione regionale, dia veramente un occhio di riguardo alle scuole dell'agricoltura, alla facoltà di agraria e alla facoltà di veterinaria, affinché sfornino veramente degli operatori che possano lavorare in campagna. Quindi chiuso questa premessa parlando dei PSR. Allora i PSR sono delle misure importantissime a cui gli allevatori e gli agricoltori sono particolarmente affezionanti perché sono le uniche misure che permettono di avere dei fondi da utilizzare a fondo prodotto, da utilizzare nelle imprese agricole. Quindi sono l'unico sistema che permette ad un'azienda agricola di poter migliorare, evolvere, avanzare. Purtroppo questa giunta regionale ha avuto difficoltà a spendere i soldi e quelli che ha speso, li ha spesi anche male. Da che cosa sono caratterizzate questi ultimi anni di bandi regionali, soprattutto da lungaggini di bandi, cioè questi bandi che non arrivano mai, quindi pochissimi bandi a disposizione, e soprattutto istruttorie lunghissime, giustificate, anzi giustificate prima, adesso non più giustificabili, con una mancanza di personale, degli enti. Secondo problema che si è manifestato è la burocratizzazione delle pratiche, pratiche troppo lunghe, istruttorie troppo lunghe. Faccio un esempio pratico. Bando nuovi insediamenti del 2016-2017. Bando uscito nel 2016, pratiche presentate a 2017, scorrimento graduatori e 2021, presentata, arrivata la concessione di finanziamento a dicembre 2022, domanda di pagamento anticipo presentata nel gennaio 2023, andate in pagamento nel novembre del 2023. Subito, visto che l'impresa aveva raggiunto i requisiti, subito presentata la domanda di pagamento finale, quindi presentata la prima settimana di dicembre, ancora oggi noi, al gennaio 2024, abbiamo questa pratica aperta. E questa dei nuovi insediamenti, misura 6.1, è la misura più semplice in assoluto, che non ha bisogno di nessuna istruttoria, perché il tecnico deve controllare esclusivamente che quell'impresa abbia raggiunto piccoli requisiti, che sono un corso professionale che ha pagamento adesso per gli imprenditori agricoli, l'iscrizione all'Inps, che è facilmente controllabile, e poi sempre controllabile semplicemente dal fascicolo aziendale che l'impresa abbia aumentato probabilmente, cioè abbia aumentato il proprio capitale, che sia capitale fondiario o capitale agrario. Quindi una domanda semplicissima che potrebbe avere un iter istruttorio probabilmente di un mese, un mese e mezzo, abbiamo aspettato dieci mesi per avere questo finanziamento e tra l'altro la pratica non l'abbiamo neanche chiusa. Ancora più complicata la situazione delle misure di investimento, quindi la 4.1, la 4.2, i PIF, eccetera, eccetera. Cioè quelle misure che prevedevano da parte dell'allevatore o dell'agricoltore un miglioramento strutturale. Quindi la presentazione di un progetto, la cantierabilità del progetto, che è un problema. Noi tutti i tecnici ci chiediamo perché è richiesta la cantierabilità di un progetto, quindi l'acquisizione di un titolo edilizio, quindi di tutte quelle autorizzazioni che rendono il progetto immediatamente eseguibile, che dura 5 anni quando poi l'istruttore è durata 7 anni. Cospringono l'allevatore a richiedere anche il rinnovo del titolo edilizio. Cioè delle cose che è veramente assurde, che non possono essere contemplate. Il mondo va veloce, gli allevatori seguono questo mondo, quindi anche loro hanno necessità di fare delle scelte veloci. Se un allevatore deve acquistare una trattrice agricola, non può aspettare anni per acquistare una trattrice agricola, perché l'anno successivo Massimo l'acquista, perché gli serve per le lavorazioni agricole. Non è che gli serve per andare in giro in paese. E quindi, cioè delle cose assurde. Perciò, per chiudere, così sono anche più sintetica, cosa servirebbe? Servono sicuramente tempi accettabili. Quindi istruttori e molto più veloci e sburocratizzazione delle pratiche. Quindi pratiche molto più leggere. Un'altra cosa che serve è snellire i bandi, cioè dividere i bandi. Cioè esistono delle pratiche che potrebbero essere molto più veloci, per esempio quelle dell'acquisto delle trattrici o delle attrezzature in agricoltura, che rientrano nel calderone anche delle pratiche molto più complesse, acquisendo così tantissimo ritardo. Quindi anche dividere i bandi, le pratiche per esempio per l'emungimento, quindi per la ricerca idrica. Quelle sono pratiche che devono andare da sole, perché servono immediatamente alle aziende agricole, senza che debba appunto aspettare mesi, anni per avere l'autorizzazione. Concludo dicendo che sette anni di attesa per le domande sono inaccettabili. Sono veramente inaccettabili. Io mi chiedo come gli allevatori, le associazioni di categoria ancora non si siano ribellate a questo stato delle cose. niente, io potrei anche aver terminato visto che... grazie. grazie.